Buongiorno e buonasera Fringuelli, aspettavo questo giorno come un lavoratore dipendente aspetta la tredicesima come un bambino aspetta il Natale o come Rocco Silfreddi aspetta di girare il prossimo film io, Maremma Diavola, aspettavo questo giorno da anni, o meglio non da anni, da mesi da quando infatti è entrato in vigore il codice della strada che obbliga noi ciclisti ad installare sulle nostre biciclette da corsa, da città, da passeggio, da trekking insomma su ogni velocipide dei segnalatori luminosi all'anteriore una luce continua di colore bianco o giallo o intermittente al posteriore un faretto rosso continuo o intermittente i catarin frangenti sui pedali e sulle ruote questo è quello che dice il codice della strada e noi, essendo persone lige al dovere, dobbiamo, se vogliamo circolare in strada adottare questi piccoli dispositivi sulle nostre biciclette lo sapete, questo codice è entrato, o meglio, l'aggiornamento del codice è entrato in vigore circa un annetto fa adesso vado a memoria, non mi fate dei pulci sulle date tra l'altro non sto nemmeno bene, quindi come potete vedere non sono nemmeno lucidissimo però, siccome ho letto una notizia che mi ha fatto saltare giù dal letto anche se sono un po' febbricitante sono venuto subito a parlarvene perché voglio parlarne con voi voglio sapere che cosa ne pensate voglio sapere il vostro parere su quanto è accaduto allora, dividiamo questo video in due prima di tutto, i fatti dopo le opinioni personali, le mie ovviamente, vi racconterò il mio punto di vista che cosa è successo? cos'è che mi ha fatto saltare giù dal letto anche con la febbre? allora, nell'estate del 2022 un ciclista diciassettenne che si stava allenando con la squadra sul passo San Pellegrino in direzione Moena subisce un incidente in sostanza di fronte a un dare precedenza è stato travolto da un'auto la quale, scusatemi l'ha sbalzato in avanti finendo addirittura su un'altra macchina l'incidente, come potete capire è stato un incidente importante non è stato, diciamo, la classica scivolata tant'è che arrivano sul posto oltre ai mezzi di soccorso di soccorso, scusatemi anche i vigili urbani per fare i rilievi del caso cioè per capire chi aveva torto e chi aveva ragione insomma passano i mesi e il genitore del ragazzo allora minorenne quest'anno, nel 2024 se non ricordo male 19 anni si vede recapitare a casa una contravvenzione in quanto nella data dell'incidente suo figlio sulla bicicletta non aveva i dispositivi che ho detto poc'anzi ovvero i segnalatori luminosi attivi cioè all'anteriore la lucetta con segnale luminoso bianco giallo intermittente o continuo e al posteriore il faretto rosso con segnale luminoso continuo intermittente e nemmeno i catarin frangenti né sui pedali né sulle ruote quindi è stato contestato questo e quindi dovrà pagare un'ammenda oltre ad essere stata contestata l'assenza di questi dispositivi è stato contestato anche il modo con cui il ciclista all'epoca 17enne che lo ripeto si stava allenando sul passo San Pellegrino in direzione moena con i suoi compagni il modo con cui il ragazzo ha affrontato l'incrocio sembra lo abbia affrontato dico sembra perché non sono in grado di capire come abbiano fatto a determinare la velocità di una bicicletta i i vigili urbani scusatemi quindi sembra che il ragazzo sia arrivato troppo forte quindi non rallentando non applicando la dovuta pressione sui freni troppo velocemente all'incrocio quindi c'è anche questo ma non solo non solo c'è questo c'è anche un'altra contestazione cioè viene contestato al ragazzo la mancata manutenzione dell'impianto frenante che avrebbe dovuto far ridurre la velocità al ragazzo tutte queste cose sembra siano state rilevate dai vigili urbani al momento della loro chiamata e del loro intervento sul luogo dell'incidente ma non è finita perché viene contestata anche l'assenza del campanello cioè del dispositivo di segnalazione acustica però per dovere di cronaca devo anche dire che il padre del ragazzo ha voluto ricorrere dicendo che i dispositivi di segnalazione luminosa dato che era a pieno giorno non erano poi così necessari cioè lui voleva dire guardate la bicicletta del mio figliolo come si dice qui in Toscana si vedeva comunque non è che quello non l'ha vista perché non c'era la lucina davanti o la lucina dietro o il campanello o il catarinfrangente e secondo me ha anche ragione il punto è che la legge dice che su queste biciclette sulle nostre biciclette debbono per forza di cose essere installati i segnalatori luminosi anteriori e posteriori con il campanello e il catarinfrangente e se non ce l'hai la legge può sanzionarti quindi il ricorso del padre è stato respinto questi sono i fatti così come sono accaduti io ve li ho raccontati ora inizia diciamo così l'analisi e di conseguenza il mio pensiero la mia opinione che come tale non vale un cazzo lo sappiamo tutti però magari può essere spunto non lo so di dibattito di riflessione quindi cerchiamo di capire allora secondo me il padre che cosa voleva dire con quel ricorso partiamo dal fondo secondo me il babbo del ragazzo investito voleva dire guardate cioè non ci prendiamo in giro una macchina che investe un ragazzo lo investe non perché non ha la lucina tra l'altro era giorno quindi si vedeva benissimo che il ciclista stava occupando l'incrocio ok quindi lo investe per altri motivi lo investe perché è distratto perché calcola male il tempo e lo spazio perché va a velocità troppo sostenuta o perché non gli dà la precedenza però diciamo che il ragionamento del babbo se esteso a tutti gli altri ciclisti può essere un ragionamento logico purtroppo bisogna distinguere tra ciò che è giusto e ciò che è legge quindi anche se qualcosa per noi è giusto perché abbiamo usato la nostra logica la nostra cultura la nostra sensibilità dobbiamo sempre rifarci alla legge quindi la legge dice che non possiamo circolare in strada senza questi dispositivi e per quanto noi la pensiamo diversamente la legge dobbiamo comunque rispettarla perché altrimenti casca tutto il nostro impianto di diritto e dato che noi almeno fino a prova contraria viviamo in uno stato di diritto dobbiamo seguire alla lettera la legge altra cosa del verbale che mi lascia un po' perplesso è l'analisi dello stato di manutenzione della bicicletta infatti i vigili urbani sostengono che quel veicolo non era stato sottoposto alla doverosa manutenzione in particolare dell'impianto frenante allora se è vero e diciamo così non ho dubbi nel credere che non sia vero vorrei capire come in un incidente un vigilo urbano possa aver determinato che l'impianto frenante di una bicicletta io non so se quell'impianto era a disco a disco idraulico a disco meccanico dual pivot non lo so però mi chiedo soprattutto dopo un incidente quindi dopo che la bicicletta ha subito degli urti si potrebbe essere rotto un componente dell'impianto frenante oppure si potrebbe essere rotto il disco piegato il disco non lo so però mi chiedo come possa un vigilo urbano arrivare a determinare sul luogo dell'incidente ora se il vigilo urbano avesse avuto un passato nel circuito world tour come meccanico al bordo di un'ammiraglia direi porca miseria hai un occhio che non lo so nemmeno Jean Todd avrebbe potuto vederlo quindi complimenti tanto di cappello però dubito che il vigilo urbano che ha redatto il verbale fosse così esperto di meccanica però diciamo così che è plausibile quantomeno è plausibile resto molto dubbioso su come abbiano fatto a determinare la giusta correttezza dell'impianto frenante e credo che questa sia una delle cose che mi lascia veramente più perplesso cioè se fosse capitato a me gli avrei detto bene ora ti do una bicicletta mi fai vedere maremma maiala come fai a determinare che l'impianto frenante della mia bicicletta è mal funzionante l'altra questione è quella dei catarin frangenti nessun ciclo amatore con pedali a sgancio rapido ha sui suoi pedali il catarin frangente richiesto dalla legge così come non ha nemmeno il catarin frangente sempre richiesto dalla normativa per circolare in bicicletta sulle nostre strade sulle ruote ora qui obiettivamente credo che il 99% delle biciclette da corsa comprese tutte le mie biciclette da corsa siano illegali allora le cose sono due o seguiamo la legge o seguiamo la legge cioè non possiamo eludere il codice della strada perché? perché nel malaugurato caso ci dovesse succedere qualcosa o dovessimo noi causare un incidente a terzi o secondi dipende dall'ordine di arrivo il codice della strada si ritorce contro di noi perché se voi trovate il vigile urbano che ha trovato questo ragazzo che lo conosce a memoria e non è detto che tutti lo sappiano e soprattutto che è in grado con un'occhiata di capire se il tuo veicolo è a norma o no e all'impianto frenante diciamo perfettamente mantenuto o meno possiamo passare dei brutti momenti quindi detto questo dobbiamo adeguarci devo adeguarmi anch'io ci sono dei nastri adesivi che hanno la particolarità la peculiarità di essere rifrangenti quindi possiamo tagliare delle piccole striscioline da mettere posteriormente ai nostri pedali e lateralmente in modo che da qualunque direzione vengano in auto ci possano vedere pesano poco e anche se siamo malati di gramma o mania possiamo comunque essere in regola con il codice della strada e stessa cosa la possiamo fare con questi piccoli nastrini sono leggerissimi e li possiamo mettere anche sulle ruote quindi lo so è noioso il codice della strada in questo caso è molto stringente io credo troppo però noi abbiamo questo di codice e questo codice va rispettato le mie opinioni sul codice della strada non contano un cazzo conta quello che dice la legge ok quindi noi dobbiamo adattarci lo dico perché anche se noi pensiamo che sia stupido che sia troppo restrittivo che sia troppo punitivo per noi ciclisti e forse lo è però non dobbiamo credere che il nostro punto di vista sia superiore alla legge perché altrimenti stiamo nel far west e nel far west a parte Tex Wheeler che portava la legge e la portava a suon di pistolettate ognuno poi faceva che cazzo che voleva quindi per non arrivare nel far west dobbiamo essere ligi al rispetto delle regole poi dovrebbero rispettarle anche i conducenti delle auto ci dovrebbero essere sanzioni molto più pesanti per chi guida col telefono veicoli che pesano anche mille chili se ti arriva addosso una Golf da mille chili mentre quello lomino lomina o non lo so spippola il telefonino e ti travolge qui bisogna parlare non più di sanzioni ma bisogna parlare di penale anche se non c'è la morte del ciclista perché se io sparo a un cristiano con una pistola cristiano musulmano ebreo buddista induista scintuista indiano credo di averli detti tutti per non scontentare nessuno anche se non lo ammazzo io vado in galera per tentato omicidio comunque devo difendermi da questa accusa se il nonnino la nonnina escono dalla cop per fare la spesa e scrivono al nipotino anzi non gli scrivono perché non vedono un cazzo però diciamo se un teenager esce dal pub la sera scrive un messaggino alla fidanzata e non vede un ciclista che gli attraversa la strada anche se non lo ammazza deve comunque difendersi da secondo me ecco qui metto la mia opinione a servizio dei legislatori secondo me quel ragazzo deve essere denunciato per tentato omicidio ok chiusa parentesi parliamo del campanello ora il campanello no su una bicicletta sia da passeggio sia da città sia una mountain bike sia una bicicletta da strada serve per avvisare il pedone che io sto arrivando ok non è che se arriva uno stop dlin dlin a volte non si sente nemmeno noi non è che se faccio il dlin dlin tutte le macchine intorno che magari hanno la musica a tutto foo mi sentono non mi sente nessuno quindi anche questa cosa del campanello per carità lo dice la legge dobbiamo comunque averla anche se non serve un cazzo comunque per chiudere questo video voglio leggervi le testuali parole del giudice di pace nel caso in esame al trasgressore viene contestato l'aver adottato una condotta imprudente quindi questo ritorna con quello che abbiamo detto prima che di fatto ha messo in pericolo l'incolumità propria e degli altri utenti della strada in altre parole continua il trasgressore non possedendo dispositivi di sicurezza imposti dalla legge al prossimarsi dell'inserzione ha con coscienza di volontà quindi condolo diciamo accettato il rischio di causare un evento di danni come ne fatti poi verificatosi quello che mi fa un po' sorridere è che leggendo le parole con cui è stato respinto il ricorso sembra che se il trasgressore avesse sulla sua bicicletta ha avuto dispositivi di sicurezza imposti della legge tutto questo non sarebbe successo a me mi sembra un po' così non voglio discutere il lavoro di nessuno ci mancherebbe però ecco mi sembra un pochino estremo come concetto poi magari il ragazzo ha bucato la precedenza non ha dato lo stop non lo so però facendo l'analisi del testo di questa non so nemmeno come chiamarla sentenza ricorso respinto non lo so come chiamarla da un punto di vista giuridico però lo ripeto il trasgressore non possedendo dispositivi di sicurezza imposti dalla legge all'approssimarsi dell'inserzione ha con coscienza di volontà accettato il rischio cioè mi sembra mi sembra un po' troppo stiracchiata come cosa comunque ragazzi se volete stare tranquilli se volete essere sicuri montate un faro così grosso davanti sulla vostra bicicletta montate un lampione rosso al posteriore tutti i catarin frangenti che volete sulle vostre ruote e sui vostri pedali perché almeno e mi raccomando fate manutenzione all'impianto frenante perché almeno se causate un incidente o se subite un incidente nessuno può dirvi niente ok fringuelli fatemi sapere che cosa ne pensate io torno a letto e prendo anche una tachipirina fatemi sapere davvero che cosa ne pensate noi come sempre ci vediamo al prossimo video buona alla prossima ciao